Sì, a vero, è sempre che vengo a scrivere di due mesi e due, ora mi ha venuto a un tour di Cina, quindi Cina è un'altra banda che non sto acostumbrato, normalmente non sto venuto a West, non sto venuto a Ost, che è il tempo di più avanti, quindi mi ha detto che è già l'anno di 31, non ho visto, che mi ha venuto a drummi, che ora? Di 10 ore di meinta? Vai qui, sei ore tardi? andò che adalanta e bambi sa, non sai, 2 ore di madrugà, 4 ore di madrugà, scrivi, scrivi musica, e anche scrivi, è un'altra, è un'esperienza di otto, quindi ho più stelto, ho più chietto, è un'altra cosa che potete acostumbrare, quindi scrivi, è sacco di un giro, pensavo scrivendo, quindi ho detto, è un'honore e un'placere, e anche un di me, e due, non ho detto, come ti ho detto, vogliamo di ascoltare, poi diamo a cominciare la musica, un pianista, un composer, arreglista, tremendo, che non conosce, che non conosce, che potrebbe essere venuto a conoscere, il pianista di Karcher, di Randall Corson. Un applauso per il piano. Grazie a tutti. E' un po' di più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.